Ciao a tutti ragazzi, io sono Lightning e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una specie di guida all'acquisto e parliamo di My Sims perché molte persone non sanno ancora se prendere questo gioco, alcune sono indecise perché l'hanno già giocato, eccetera. Quindi andremo a parlare in maniera generica del gioco, vi spiegherò alcune cose che dal trailer non si notano perché magari può sembrare un gioco banale, però vi posso garantire che c'è molto di più. In ogni caso, io lo porterò sul mio canale, non so bene come, la sto pensando, però sì, lo porterò, sicuramente ci farò delle guide perché ci sono delle cose da approfondire su questo gioco, quindi sotto nei commenti fatemi sapere se avete già deciso di prenderlo oppure no. Eventualmente il gioco uscirà il 19 novembre, quindi manca veramente poco, solo su Nintendo Switch e costa 39,99€. Possiede due giochi all'interno, il My Sims Base e il My Sims Kingdom. I giochi comunque non sono collegati tra di loro, quindi non dovete per forza fare prima uno e poi l'altro, però dopo questo video capirete che conviene giocare prima al My Sims Base perché vi darà una conoscenza del gioco generale e poi al My Sims Kingdom perché proprio My Sims vi insegnerà le basi che poi vi porterete anche nell'altro gioco, anche se diverso, ma comunque le meccaniche sono sempre quelle. Comunque, in questa prima parte di video parleremo di My Sims e nella parte finale vi darò una breve introduzione al My Sims Kingdom, quindi se sapete già di che cosa parla My Sims e volete skippare, beh, potete andare direttamente alla fine a vedere di che cosa parla il My Sims Kingdom perché sono due giochi simili ma diversi nelle meccaniche. Prima di tutto, se siete appassionati di Animal Crossing, questo gioco fa per voi perché il My Sims, almeno il My Sims Base, è molto simile ad Animal Crossing per tanti aspetti. Prima di tutto è un simulatore di vita, non ci sono le romance perché ovviamente è fatto anche per i più piccoli, quindi si è ispirato molto al classico di Sims, ma è stato reso un po' più friendly rispetto a The Sims classico, quindi ovviamente abbiamo questi personaggi molto carini, molto coccolosi, molto dolci, quindi proprio come su Animal Crossing ci saranno le interazioni tra i personaggi, ma ovviamente saranno delle interazioni che non andranno oltre all'amicizia. Quindi sappiamo che questo gioco è un simulatore di vita e adesso andiamo ad approfondire lo scopo del gioco. Mi sentirete dire spesso un po' come su Animal Crossing perché davvero per certi aspetti il gioco somiglia tantissimo ad Animal Crossing, proprio per questo se siete appassionati del titolo, secondo me potrebbe essere un acquisto molto valido. Qual è lo scopo principale? Abbiamo una modalità storia che si conclude con il raggiungimento delle 5 stelle per la nostra città. Sì, vi sembra familiare? Esattamente. Partiremo da 0 stelle perché per vari motivi la nostra città è andata e rovina e dovremo riportarla al suo massimo splendore raggiungendo dei 5 stelle e lì si concluderà la modalità storia. Ma Animal Crossing ci ha insegnato una cosa, che raggiungere le 5 stelle non significa aver completato il gioco perché come su Animal Crossing dopo aver raggiunto le 5 stelle si sbloccano una serie di oggetti, personaggi eccetera che ci permetteranno di modificare l'isola, sistemarla eccetera. Questo ovviamente per quanto riguarda Animal Crossing. Quindi il cuore del gioco su Animal Crossing parte proprio dalle 5 stelle. E su My Sims è molto simile perché la prima parte sarà appunto la parte introduttiva dove ad ogni livello sbloccheremo qualcosa che ci permetterà di andare avanti. Ad esempio nel livello 1 sbloccheremo la cava dove all'interno ci sono dei fantasmi. A livello 2 sbloccheremo la sega per tagliare gli alberi che bloccano il passaggio. A livello 4 sbloccheremo la torcia che ci aiuterà ad ottenere qualcos'altro nel gioco. Quindi così via fino ad arrivare alle 5 stelle. La durata della storia principale dovrebbe essere di circa 5 ore. Poi ore in più, ore in meno rispetto a quanto tempo dedicate al gioco. Banalmente potreste impiegarci anche 3 ore se ci giocate di continuo. C'è da dire che il gioco rispetto ad Animal Crossing non ha l'ora diciamo reale. Quindi io potrò andare a dormire nel gioco quando voglio e schippare la giornata. Non sarò vincolata alla data normale e quindi non dovrò aspettare davvero il giorno successivo per fare le missioni. Quindi questo rende il gioco molto molto più veloce rispetto ad Animal Crossing. Quindi non avrò bisogno di fare time travel. Concludo il discorso sulla modalità storia dicendovi che non dovete aspettarvi chissà quale grande difficoltà perché appunto questa modalità storia è come se fosse un tutorial. Quindi è adatta a chiunque. Anche il bambino più piccolo può tranquillamente giocare a questo gioco. Anche perché proprio come su Animal Crossing avremo una figura che ci guiderà in ogni missione. Ci dirà vai qui per completare questa cosa. Quindi il gioco è veramente molto guidato. Però una volta che avete completato la storia entriamo davvero nel vivo del gioco. E qui il gioco inizia a diventare un po' più interessante. Soprattutto se siete dei giocatori abituati ad Animal Crossing e comunque volete un po' di sfida in più. Entrando nel vivo del gioco ci toccherà sbloccare una serie di cose che ci porteranno poi al completamento totale del gioco. E sbloccheremo un filmato finale solo se avremo completato il gioco al 100%. Ma cosa dobbiamo fare dopo aver fatto le cose base di questo MySims? Innanzitutto ci saranno dei minigiochi che sbloccheremo solo vincendo diversi round perché ogni minigioco sono anche parecchi minigiochi. E posso assicurarvi che non sono così semplici come sembrano. Ad esempio dobbiamo sistemare delle acconciature, dobbiamo fare la pizza, ce ne sono veramente tanti e alcuni sono veramente divertenti. Ma hanno un livello di difficoltà. Partiremo ovviamente con i livelli più facili e man mano che vinciamo i round andremo a sbloccare i livelli di difficoltà più alti. E posso garantirvi che quelli più alti sono tosti. Vedrete voi stessi se prenderete il gioco. Dopo aver sbloccato i minigiochi dovremo concentrarci sulle stelle dei personaggi. Diciamo che i personaggi non sono tanti quanto quelli di Animal Crossing però non sono nemmeno pochissimi. E per completare questa cosa delle stelle dei personaggi dovrete veramente impegnarvi perché per ogni personaggio dovrete fare qualcosa di diverso che ovviamente non sapete. Ad esempio ci sarà un personaggio che vi richiederà queste stelle solo se voi andate a trovare la sua casa per 5 volte di fila. Ma sono talmente tante le cose che è impossibile conoscere tutte. Quindi dovrete scoprirle per ogni personaggio. E fidatevi detto così sembra facile ma non lo è. E una volta completata questa cosa delle stelle dei personaggi dovremmo concentrarci nelle essenze. Le stelle sono un po' i progetti fai da te di Animal Crossing. Sono prettamente dei mobili che ci aiuteranno a comprare determinati obiettivi ma si sbloccheranno solo facendo delle cose precise. Quindi anche qui dovremmo capire come sbloccare quella cosa. Ovviamente penso di farci delle guide quindi poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E se comprate il gioco penso di fare proprio delle guide dettagliate su questo gioco. E se avete fatto tutte queste cose che vi ho appena spiegato in maniera corretta beh riuscirete a sbloccare il finale del gioco al 100%. Quindi se vi sembra facile il gioco vi consiglio di provarlo perché dovrete poi impegnarvi un po' di più fuori dalla modalità storia. Ci tengo anche a dire cosa che non ho detto prima il gioco non è dotato di multiplayer. Quindi non sarà possibile andare a visitare le città degli altri perché non c'è modo di giocare online insieme ad altri giocatori. Quindi da questo punto di vista non vi servirà nessun abbonamento, non ci sarà nulla da condividere, progetti extra da scambiare, nulla di tutto questo. Se prendete questo gioco io vi consiglio di iniziare come detto all'inizio del video da My Sims base proprio perché tutte queste meccaniche vi aiuteranno nel secondo gioco che andremo a vedere adesso. In realtà il My Sims Kingdom secondo me è leggermente più semplice. Lo reputo un po' più avventuroso che simulatore di vita però è molto molto carino per degli aspetti che vi sto per dire. Prima di tutto avremo sempre la fase introduttiva dove ci spiegheranno un po' di cose, ci sarà questo regno gestito dal re Rolaldo se non ricordo male il suo nome e noi diventeremo bacchettieri. Quindi questa prima fase è sempre il tutorial del gioco, completata questa fase andremo in giro per le varie isole perché qui abbiamo ben 11 isole più la dodicesima che si aggiungerà solo dopo aver completato il gioco e sarà la nostra personale isola dove potremo costruire il nostro castello. Quindi questa cosa è super figa perché una volta che completerete il gioco avrete la possibilità di costruire proprio il vostro castello infatti l'isola prenderà il nome del giocatore, quindi scegliete bene il nome del vostro giocatore prima di iniziare la storia. E quindi in questa avventura prima di arrivare all'isola finale che è la dodicesima dovremo girare queste isole e aiutare i vari abitanti. Quindi il gioco sarà un po' ripetitivo perché le missioni anche se cambiano comunque gira e rigira più o meno sono le stesse. Però devo dire che non mi è mai dispiaciuto. L'ho giocato veramente poco, l'avevo ripreso qualche mese fa sulla Wii perché anche MySims ci ho fatto qualche video sul canale mesi fa. Molto molto carino, sono curiosa di giocare più MySims Kingdom perché io MySims in realtà l'ho giocato però vi consiglio entrambi perché se vi piace Animal Crossing sono veramente due giochi super super carini e in questo periodo dove mancano dei giochi simili secondo me è un ottimo acquisto anche per il prezzo perché 39,99€ due giochi sì ok sono delle remastered però tutto sommato non sono male cioè come prezzo è abbastanza giusto. Ovviamente avendo questa atmosfera un po' medievale avremo la magia infatti per costruire utilizzeremo la nostra bacchetta che sarà diciamo munita di mana, il mana ci permetterà di costruire degli oggetti e se noi lo terminiamo non potremo più costruire quindi ci toccherà ricaricare il mana e una volta finita la storia dobbiamo anche collezionare le pergamene che sono gli oggetti diciamo sempre mobili eccetera che ci aiuteranno a completare il gioco quindi per certi aspetti ovviamente il gioco è simile a MySims proprio per questo vi ho detto iniziate da MySims, imparate le meccaniche e poi vi spostate sul kingdom però effettivamente sul kingdom non c'è altro da dire mi incuriosisce tantissimo arrivare all'ultima isola e costruire il mio castello ovviamente il sistema di costruzione è quello che avete visto ci ho già fatto dei video ma man mano che parlo magari vi rimetterò delle immagini di gameplay e quindi questo è quanto io porterò il gioco, ci farò la serie non so bene come gestire entrambi i giochi se porto prima il MySims o il MySims Kingdom o tutti e due devo un po' capire sotto nei commenti però voi fatemi sapere se avete deciso di prendere il gioco se siete ancora incerti e se volete ovviamente nel primo commento vi lascio sempre il link a Amazon prenotatelo se volete giocarci al day one altrimenti non vi arriverà mai in anticipo potete anche acquistarlo sul MyNintendo eShop quindi decidete voi detto questo ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti